Allora ci siamo, siamo pronti per la prossima finale che è quella del compound femminile Introduciamo i nostri atleti con un applauso al bersaglio numero 1, Ifigenia Neri Contro bersaglio numero 2, Roberta Cascio Arbitro dell'incontro in linea Bruno Ranaldi e Pietro Caria ai bersagli Sarà Roberta Cascio il bersaglio numero 2 a iniziare questo scontro Non appena gli arbitri ci danno via, siamo pronti a cominciare Inizio con un 10 5 9 3 6 Chiude a 25 Ed è un 8 forse 9 ma non basta in ogni caso quindi 2-0 per Roberta Cascio Chiude a 25 Chiude a 25 è soli mangiare Nove Sette Nove Quattro Dieci Miss E subito Riagguanta lo svantaggio I figgini aneri Dieci nove nove Ventotto punti per lei E siamo a due pari I have been traversing The soundless territory Of a strange land I decide To be taken To the arms With love I feel This is the first day Of the new life My eyes Fill with tears I have admitted To the privacy Of an other soul Puntegi conformiti Due a due E quindi di nuovo Roberta Cascio A cominciare la prossima valetta Stiamo assistendo a un vero gruppo derby Sulla linea di ferro Contagnie di sciaglia Tuulen seetan paellaan paa Tuulen tiedä katoan paa Tuulen tietä kaipaan paa Tuuli miss Tuuli kaat Cinque Nove Nove Sei 6 4 8 8 e un 4 forse 5 situazione molto molto vicina 19 punti Cascio 17 18 punti di riga per Negri attendiamo quindi la verifica degli arbitri nel frattempo è con noi Guido Lo Giudice ha detto stampa della Ficarco allora Guido due parole dalla stampa su questa gara direi una gara eccezionale dal punto di vista organizzativo finalmente c'è un bello scenario un curatore particolare complimenti agli organizzatori e speriamo che per la RAI venga un bel prodotto gli atleti ci aiutano su questo perché sono tutti atleti di alto livello gli azzurri che speriamo con questo ultimo ritiro che faranno qui a Sassari più gli altri che partiranno per la Gran Bretagna ci faranno sognare ai mondiali di Torino in bocca al lupo a tutti grazie Guido e intanto diamo la conferma dei punti 19 a 17 e quindi siamo grazie mille grazie mille 5 10 8 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 un problema di upload su internet è un otto sette ed è un nove 27 punti e Roberta Cascio la nuova campionessa italiana Compa In The Tell me baby Are you I wanna get you Tell me baby Are you I just wanna get you wet Tell me baby are you wet